Anni, alciati, ah no, c'è il calcio. Cominciamo con la classifica della gara sociale, va bene? Allora, al quarto posto con 91 punti, si classifica Gianluca Bertolucci. Al terzo posto, con 92 punti, Simona Stefani. Al secondo posto, al secondo posto, con 93 punti, Giovanni Barsaldi. E al number one, rullo di tamburi, con 97 punti, Matteo Daletto. Ora si danno a tutti i... Si diplomi? Si diplomi. Leggine uno è uguale per tutti. Udite, udite, popolo di Lucca et forestieri della nostra capitade. Oggi, domenica, nello dia 26 dello mese di marzo dello anno di Nostro Signore, due millesimo ventesimo terzo, noi, Giovanni degli Barsanti, Con il benestare dello maestro d'armi, Mauro degli Tolomei, decretiamo Madonna, Mariela degli Gonzales, dello confalone della Luna, apto palestrare con la palestra grande da banco. Vieni Mariela! 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 la palestra grande da banco Madonna, Jenny degli Bianchini della palestra da banco che sei, Samuele della confalone della serena Samuele dell'Icianole detto il biondo Marco dell'Orfanello aspettate una questione militare per cambiare la pellicola Messer Lorenzo del Libonino del palone del palone me l'hai fatto anche te è proprio, guarda è proprio esempio per tutti guardate tutti qua, dai Messer Nicolás del Libossi dello palone della serena della serena Messer Federico degli Piccinini dello gonfalone della serena Madonna Valentina degli Imbettoni di Imbettoni di Imbettoni di Imbettoni di Imbettoni di Imbettoni di Imbettoni ora premiamo invece Recluse Paolina dove ha dato i diplomi ora devo riuscire a certo Paolina prima Paolina prima guarda la seconda sono attenzione a via ne vai ma la vuole togliere allora Paolina va bene Al secondo posto per le Paoline, con 88 punti, Liela Gonzalez. Primo posto per le Paoline, Giovanni Marzani. Con 92 punti, Simona Stefani. Allora si possono fare le regole. No, io non direi che facciamo. Meno no, non si fanno. Terzo posto. Guardate la faccia di Gianpaolo. Voglio una bella foto. Con 82 punti, Nicola Sbossi. Al secondo posto. Qual è il primo? Mamma, che è il primo. Al furia. Ma facevo per posto a male lui. Con 82 punti, Marco Dell'Orpanello. Bravo, ragazzi. L'ha rubato. Primo posto. Ai, ai, ai. Guardate, guardate. La faccia di un uomo distrutto. Piange, 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 piange. Piange. La faccia di un uomo distrutto. Con 88 punti. Eh? Mariana Gonzaga. Brava. Buono, buono, buono. Buono, buono, buono. Buono, buono. Buono, buono. Ora però basta, eh. Eh, va bene. Mi calmo un po', mi calmo un po'. Quindi ora, prendi la palestra. La palestra! E però io me la volevo. Ma no, la voleva. Lei me la voleva. Lei me la voleva. Vai. La faccio così. Sermi. Grazie. Vai. E che faccio con questo ora? Te la porto a casa. Ehi, che faccio? Che ti posso dire? Per un anno è tua. Come ti dico?